Ciao ragazzi, un crimine al giorno 4 aprile, andiamo a trasferirci molti molti anni fa, siamo nel 1958, l'anno dopo dell'uscita di un classico importantissimo, Payton Place, per quanto riguarda la cinematografia mondiale, Postino suona sempre due volte, sono tutti i titoli che hanno visto protagonista, la nostra Lana Turner, la persona che è stata indicata nel titolo da me oggi in relazione alla sua guardia del corpo, ma chi è stata la guardia del corpo di Lana Turner e qual è la situazione di cui vogliamo andare a parlare? Ufficialmente, Lana Turner aveva nel 1958, sia come guardia del corpo, sia come amante, un personaggio decisamente criticabile, un personaggio che a sua volta aveva fatto da guardia del corpo a un gangster estremamente importante di quegli anni, un gangster della mafia ebrea in particolare, insomma un personaggio molto famoso come Mickey Cohen, andiamo a vedere la scheda del 4 aprile 1958, siamo a casa di Lana Turner a Beverly Hills e siamo attorno alle 21 e 40, L'amante di quei tempi di Lana Turner si chiamava Johnny Stompanato, a.k.a. ovvero Johnny Valentine, anni 32, gigolò rinomato dagli ambienti diciamo più vicini alla malavita così come gli ambienti di alto livello del dello spettacolo ed ex guardia del corpo appunto del gangster Mickey Cohen. Che cosa è successo? Che i numerosi litigi che andavano avanti oramai da mesi tra Johnny Stompanato, ovvero Johnny Valentine e la sua amante Lana Turner si stavano facendo decisamente gravi e uno dei principali testimoni, insomma dei litigi che si facevano sempre più importanti e che in alcuni casi finivano con l'amante Johnny Stompanato mettere le mani addosso o minacciare fisicamente Lana Turner, uno dei testimoni fondamentali era la figlia di Lana Turner, Cheryl Crane, anni 14. Quella sera del 4 aprile 1958 il litigio si fece decisamente gravissimo e Cheryl Crane fu svegliata dalle urla in camera da letto e a corse a difesa della madre trovò Johnny Stompanato non soltanto minacciare fisicamente Lana Turner ma dicendogli adesso io insomma ti faccio finire male come ho fatto finire male un sacco di persone di cui mi sono dovuto occupare insomma nella mia vita che tu conosci bene, non uscirai da questa casa, mise un piede sopra il letto di Lana Turner per bloccarne i movimenti bloccarla all'interno del letto stesso con le coperte e il lenzuolo. A quel punto Cheryl Crane presa da un diciamo dalla rabbia assoluta del vedere la madre in queste condizioni dopo mesi di discussioni fuggì di nuovo dalla stanza ed entrò in cucina dove aveva fatto un piccolo una piccola merenda poco tempo prima era andata a bere qualcosa, era andata a mangiare qualcosa, un sandwich, aveva visto un semplicissimo coltello da macellaio. Anni 14 non sopportava più le angherie e le violenze nei confronti della madre si presentò di nuovo in camera da letto dicendogli non toccare mia madre, non lo farai mai più. Ovviamente Johnny Stompanato, ex guardio del corpo di un gangster, di più gangster ma un personaggio assolutamente consumato alla vita violenta, si mise semplicemente a ridere mentre Cheryl Crane nascondeva dietro le spalle il coltello che aveva portato dalla cucina e senza dire nient'altro, senza dire neanche una parola, si avvicinò a Johnny Stompanato, tirò fuori il coltello e molto semplicemente glielo affondò nel petto uccidendolo sostanzialmente sul colpo, sia attorno alle 21.40 del 1958. In questo senso la guardia del corpo di Lana Turner è stata effettivamente la figlia Cheryl Crane che venne ovviamente portata in tribunale per ciò che era successo ma venne assolta per legittima difesa, insomma venne assolta sia per legittima difesa che con tutte le attuennuanti relative a quella che era la condizione insomma di grave abuso che la madre stava subendo oramai da tempo con questo personaggio che fungeva un po' da guardia spalle tipo scimmione ma anche purtroppo come una pessima scelta di amante. Tutto è finito quindi quel 4 aprile 1958 con la coltellata, con il coltello da macellaio della figlia di Lana Turner. Questo è il crimine al giorno del 4 aprile relativo al 1958. Ci vediamo domani con una nuova piccola pillola di crimine, sempre alla botteguccia dei sigilli. Crack Apart.